Ciao a tutti ragazzi e bentuali sul canale, come va? Spero che state bene e che sia trascorrendo una splendida giornata. In questo video torneremo a parlare di Torino. Nel video che ho realizzato ieri riguardo Fares appunto in orbita granata, un mio iscritto ha scritto Ok, sistemata la fascia sinistra occorrerebbe un tequartista mancino. Scartabellando allora nella mia memoria, in effetti un nome è uscito e quindi ho deciso di portarvelo appunto in video per farvelo conoscere. Stiamo parlando di Fabian Rieder dello Young Boys. Prima però di andare non c'è la questione mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella dei notifichi per i miei sempre aggiornati sui news del canale e sui prossimi video che andrò a pubblicare. Mi raccomando supportate le mie due serie gameplay su FIFA 22 e su Football Major 2022 e dato un sguardo qui sotto in descrizione è il mio secondo canale di E-Music, canale dove parlo esclusivamente di musica. Però chi è questo Fabian Rieder? Appunto un centrocampista svizzero classe 2002 di 181 cm che è cresciuto nello Young Boys, squadra dove ancora insomma milita. In stagione 27 partite, 4 gol e ben 7 assist. Un giocatore di 181 cm con una fisicità abbastanza longe linea che fa delle verticalizzazioni, degli inserimenti e della visione di gioco diciamo la sua caratteristica principale. Un giocatore che sa abbinare fase offensiva a fase difensiva che nello Young Boys appunto ha giocato sia come centrocampista centrale di sinistra nel 4-4-2 e come laterale di sinistra però nel 4-4-2. Questa può essere un pochino un'indicazione. Allora prima parlando ad un discorso tattico parlo un pochino, ripeto appunto nel giocatore, un mancino come già detto che ha una sensibilità di piede veramente molto interessante. Ottimi tempi di gioco nello smistare il pallone e nell'inserimento. Soprattutto quest'anno sta dimostrando anche una discreta diciamo l'ison con il gol sebbene secondo me possa ampiamente migliorare perché insomma il gol nei piedi lui li ha. Quindi basta soltanto un pochino affinare però si sa che per quanto Young Boys è una società di alto livello in Svizzera Insomma il livello del campionato Svizzera è quello quindi servirebbe a lui uno step successivo per affinare le proprie doti. Un giocatore appunto dall'ottima corsa e dall'ottima protezione di palla quindi anche in fase di copertura del pallone quando è pressato è un giocatore veramente eccezionale. Un giocatore che sa far salire la squadra dalla propria metà campo veramente un centrocampista box to box totale. Diciamo che in un certo senso potrebbe avere le caratteristiche di Pobega però è lievemente più offensivo anzi molto più offensivo perché infatti nel suo excursus a livello tattico nella sua più breve carriera ha occupato diciamo tutte le posizioni della linea verticale. Quindi da mediano soprattutto centrocampista centrale da centrocampista offensivo e anche addirittura la seconda punta se non insomma veramente dissime volte meno rare le volte sono state quelle dove è stato appunto impiegato sulle fasce del centrocampo. Ecco in un in un ottica Torino dove potrebbe collocarsi leader allora in primis potrebbe tranquillamente occupare i ruoli di centrocampista centrale nel centrocampo a 4 però che succede? Che sta andrebbe un po' a pestare i piedi sia con con Lukic che con Pobega quindi secondo me come giocatore deve essere ancora un po' non dico plasmato però che non cada nella sindrome di Bernardeschi come la chiamo io. Che sa fare tutto bene però niente diciamo a livello eccelso quindi secondo me bisogna decidere bene se rider si possa sviluppare soprattutto come trequartista o come mezza punta scusate come trequartista oppure come centrocampista di mediano o come centrocampista di fascia. A livello di abilità lui tecnicamente lo vedo molto bene come mezza alla sinistra in un centrocampo a 3 contestualizzato nel modo di Uric potrebbe tranquillamente ricoprire il ruolo di trequartista di destra in modo da mettere Brecalo come trequartista a largo sul centrosinistra quindi trequartista a piedi invertiti con una punta metteteci nome che volete metteteci Zaza metteteci Sanabria metteteci Belotti metteteci Marco Lazetic chiunque volete in modo che facendo questo gioco a rientrare sulle fasce vi sia libertà di movimento quantomeno sulla sinistra. In questo caso appunto si sfrutterebbe questo Brecalo che si andrebbe a rientrare il destrano sinistro che va a salire in questo caso ipotizzando un fare su una saldi o una line anche sembra nell'orbite del Leeds però insomma potrebbe diciamo svilupparsi in questo modo dalla fase offensiva del Torino. Inoltre Reader potrebbe anche rappresentare una sorta di trequartista tattico come lo era Pride però Pride è in prestito a ciacchi fisici veramente lentino quindi secondo me con quello strappo Reader potrebbe veramente dare quella marcia in più al Torino ovviamente qualora fosse un giocatore preso quantomeno con diritto con scusate in prestito con diritto o in prestito con obbligo o addirittura a titolo definitivo perché come ho ripetuto più volte sia qui su YouTube che ai miei iscritti non servono più i giocatori in prestito soprattutto se secco ovviamente io capisco il prestito con diritto diciamo ti dà quel piccolo margine di manovra che se rende lo prendi se non lo rende non lo prendi quindi questo è il discorso però secondo me a livello di abilità Reader molto giovane potrebbe essere molto funzionale al Torino sia in un'ottica di centrocampo che in un'ottica di trequarti quindi onestamente un investimento che farei l'unica cosa è vedere il prezzo ricordiamo che lo Young Boys è appena nasciuto a 4.5 milioni di euro FT al Genoa quindi contando che generalmente gli attaccanti si pagano un po' di più perché portano le vittorie come se i difensori non le portassero ma comunque questa è la mentalità del calcio quindi io penso che meno di 7 milioni non lo prendi quindi il Torino dovrebbe in primis lavorare sugli esuberi già nato via in con si parla di accessioni di Baselli Izzo sembra che sia stato proposto anche l'Udinese perché comunque ha ceduto Samir quindi ma anche in quel caso in prestito quindi dovresti tagliare un pochino sugli ingaggi Zazza dimenticavo in orbita Bologna quindi no scuola in orbita Genoa quindi ecco bisogna lavorare sulla riduzione dei costi per poi avere un po' di margine da diciamo investire spero che Caio lo faccia perché ripeto comunque ridere un giocatore talentuoso che a me piace tanto nell'orbita della Nazionale Svizzera del 21 dal 2021 e voglio dire un giocatore veramente secondo me interessante e funzionale ovviamente tifosi del Torino fatemi sapere cosa ne pensate se conoscete il giocatore se non lo conoscete se vi è stato utile il video mi raccomando spolliciate come sempre commentate che mi fa sempre piacere ovviamente come sempre ricordo un mi piace e l'iscrizione al canale campanellina, supporto alle serie gameplay e al mio secondo canale vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi